Lo Stato italiano dovrebbe incentivare le persone a praticare fitness e dovrebbe motivare le aziende a creare dei piani welfare. Io, assieme ai miei colleghi di altre realtà, abbiamo una posizione ben chiara e ci stiamo battendo, tra virgolette, per portare due azioni concrete, sostanzialmente. Una, dare la possibilità ai cittadini di portare l'abbonamento in detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi e la seconda, portare l'IVA al 10%, così come lo è per i farmaci. Perché di fatto il fitness è un farmaco naturale e lo sappiamo benissimo che se una popolazione è sana, in forma, in salute, costerà anche meno alla spesa pubblica nazionale. Dunque è un vantaggio per tutti.